allora volevo tornare a fare questi speciali del lunedì parlando di della struttura di un fumetto di un manga come riconoscere dei piccoli consigli su come riconoscere piano piano insomma voi insomma voi prendete per buono quello che vi dico unite fate mente locale di tutti i video che abbiamo fatto per scoprire anche un pochino scegliere quale qual è il prodotto migliore quindi insomma sapere cosa andate a comprare ok allora inizio subito a far vedere una cosa noi conoscete benissimo akira e guardate voi se voi lo appoggiate sul tavolo no vedete questa è la classica forma che io chiamo a gabbiano insomma se il vostro libro rimane in questo stato quando lo aprite su un tavolo no la classica forma di un gabbiano in volo in poche parole voi capite che questo è un buon è un buon prodotto di relegatura ok è tutto molto flessibile le pagine sono morbide la copertina è giusta e quindi questo è il classico libricino che vola vedete il gabbiano che sta volando povero gabbiano come la canzoncina ve l'ho già fatta vedere queste queste edizione insomma niente da dire una grandissima edizione come parliamo di relegature no di come è composto un prodotto quindi è un prodotto da 10 come confezione adesso visto non ho già parlato però per farvi capire bene l'edizione di fair tale ok fairy tale cioè questo è impossibile naturalmente ha più o meno le stesse dimensioni di quello di akira però vedete è impossibile in qualche modo questo è un brossurato quello comunque è una rilegatura quello di akira questo è un semplice brossurato vedete cioè è tutto molto rigido non si può non si riesce non si riesce vedete ad aprire quindi questo non è un gabbiano ma è un passerotto passerotto con le ascelle mozzate non posso dire no vedete c'è proprio non riesce a fare la forma del gabbiano cosa cosa succede questo voi vedete ma chi se ne fotte no siete costretti a comunque a forzarlo un pochino e cosa succede qua praticamente si formerà prima o poi prima o poi diciamo l'arco ok un arco evidente è importante capire questa cosa loro hanno utilizzato giustamente giustamente della carta sottile questo cosa succede che probabilmente non verrà assegnato qual prodotto è una buona cosa però dovete fare molta attenzione appunto a non creare quell'arco anche perché non ha una sovraccoperta questa quindi ha una grandissima spesa io vi consiglio di aprirlo almeno possibile cioè questo è studiato per essere veramente sopra mobile mi piace cioè mi piacerebbe anche farla perché c'è veramente queste pagine sono enormi però fate fatica no nel senso che comunque la dovete forzare ora sicuramente il ragazzino che adora quest'opera mi verrà a dire io la l'apro bene nel mio prodotto è buonissimo va bene ok dico a tutti gli altri che comunque leggono manga fumetti gli piace anche conosce un pochino la struttura lasciate un po stare il prodotto no quasi parla di struttura di dove state spendendo i vostri soldi quindi è giusto che io vi dico le cose come stanno questa è un'opera che farei anch'io volentieri 15 euro sono troppe questa mi darei 8 euro al massimo ok proprio per questo tipo di problematica qua questo alla fine dei 36 numeri andrà a formare un diciamo così un'immagine quindi fate attenzione ripeto non aprirlo tanto perché vi crea vi creerà quell'arco probabilmente non verrà tagliato qua in mezzo perché non è proprio cartoncino no è proprio fine su questa cosa l'hanno studiata bene nel senso non verrà assegnata no non verrà non ci sarà il solco ma ci sicuramente probabilmente comparirà all'arco siccome è un brossurato delle le carte qua sono ho visto che sono molto secche quindi ci potrebbe essere anche la problematica del distaccamento delle pagine ok cosa che magari in quello di akira non succede proprio perché è un rilegato a filo quello e quello non ha una copertina rigida per dirvi però però come cioè come rilegatura quello di akira appunto fa questa forma del gabbiano che che lo rende un prodotto perfetto ecco vedete capite no questo rimane rimane proprio non c'è proprio non si non si piega non apre le ali come posso dirvi no riallacciandomi al discorso della copertina fine no io avevo fatto un discorso sulle copertine che secondo me ad esempio su questi prodotti più piccoli andrebbe lo dai dico dove spendi le classiche 5 euro andrebbe non messo il cartoncino vedete questo è un cartoncino più spesso rispetto a quest all'opera di fairy tale che hanno fatto proprio per questo motivo qua come vi avevo già detto perché oltre a formarsi l'arco se voi l'aprite si fa viene segnato proprio si taglia a metà molte volte perché questo capite cartoncino alla funzione cartoncino quindi se lo piegate non potete riportarlo poi allo stato originale non so se se mi spiego quindi per questi volumi qua secondo me secondo me andrebbero appunto queste copertine non tanto spesse proprio perché comunque se lo volete aprire ripeto sono piccoli se volete aprire magari viene segnato leggermente come arco ma non si rovine con mezzo non viene tagliato non si spaccano molti che ci tengono tantissimo anche giusto comunque sono 5 euro no nella quantità sono soldi se non si trovano rovinati qua in mezzo è bello da lasciare comunque in edicola e in libreria scusate se non vi è chiaro qualcosa naturalmente scrivetemelo mi raccomando se ci avete capito qualcosa e siete qua per caso iscrivetevi al canale così mi dà la possibilità e la voglia di continuare a fare questi video di spiegazione naturalmente lo faccio perché ho lavorato per tantissimi anni nel settore e tuttora sono sono nell'ambiente insomma per quanto riguarda questo è un prodotto che abbiamo comprato che ho comprato da poco anche questo in offerta vi consiglio di prenderlo 2 euro perché è un cartonato no questo già solo a vista così gli do 8 poi bisogna vedere tutto il resto però è già da dare 8 l'altro ripeto i do 5 come relegatura nel totale 7 perché come visione carina no quello di fairytale questo qua questo qua parto già da un 8 da un 8 buono se non 9 proprio perché è un cartonato naturalmente questo è speso 3 euro e naturalmente i cartonati le fanno praticamente tutti no questo questo volo di gabbiano sui cartonati non c'è niente da dire questo è anche rilegato a filo non sempre ci sono anche dei cartonati brossurati normali non è detto naturalmente qua non si va a rovinare qua in mezzo naturalmente perché c'è il cartoncino e c'è quest'arco come vi ho già spiegato un milione di volte che non ti crea quel problema ok questa stoffa qua praticamente tra la tra il dorso e la copertina c'è del vuoto qualcuno mi ha anche chiesto ma come mai c'è del vuoto e non è attaccata la copertina perché non deve essere attaccata la copertina a volte si l'attacco ma non deve essere attaccata copertina perché quasi deve formare un arco naturalmente quando ci sono tantissime pagine no come come abbiamo visto nell'omnibus di devilman ma ma semplicemente perché sono poche pagine fossero state più pagine qua l'arco era più evidente si alzava proprio l'arco e c'era spazio dentro perché non li incollano no perché deve fare quel gioco e appunto deve deve far aprire queste queste ali al gabbiano ok mi sembra insomma volevo volevo giusto darvi queste dritte no vediamo un po questo c'è anche l'ultimo di dragon ball naturalmente dipende anche dalla struttura no questo volo di gabbiano se le pagine sono sempre più strette rispetto al totale il gabbiano può aprire meno le pagine c'è meno le ali no questo anche questo è un cartonato molto più rigido molto più piccolo quindi quando andate aprirlo in mezzo nonostante tutto è un prodotto abbastanza rigido però voi potete tranquillamente forzarlo vedete e la forma del gabbiano arriva naturalmente essendo un prodotto più piccolo tenderà naturalmente a rimanere così però se voi appoggiate le mani capito non andate vedete io forzo sopra le ali del gabbiano si aprono però non vai a rovinare il dorso quindi naturalmente quasi forma vedete l'arco con l'area sotto non c'è nessun tipo di problema voi potete leggerlo in questo modo vedete le ali si aprono ok naturalmente bisogna prendere in considerazione tantissime cose no in questi prodotti ad esempio dei di icola difficilmente no proprio perché sono piccoli difficilmente questo lo fa un pochino di questo ai più no lo fa un pochino perché comunque lo fa un pochino le vedete l'effetto gabbiano perché le pagine sono molto morbide però si rischia sempre di di solcare qua però è anche questa comunque sembra una buonissima rilegatura non tanto nonostante sia delicola questi prodotti da gazzetta ragazzi secondo me sono da prendere perché nella loro semplicità nel loro materiale neanche così costoso economico è stata studiata bene non so se è stato culo però è stato studiato bene vedete se voi lo aprite e se voi passate il dito qua nel dorso vedete che non si piega proprio quindi è un buon prodotto comunque nella sua economicità è un buon prodotto li facessero tutti così saremmo tutti più contenti e risparmieremo anche dei soldi perché questo ricordo viene 5 euro chissà cosa ci fanno dopo sperando che ci fanno qualcosa spero di insomma di avervi con semplicità chiarito delle cose se insomma se non vi è chiaro qualcosa fatemi delle domande e così magari escono altri video ragazzi e come 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 vi ho già detto nel 2023 questo 2023 siete anche voi che fate il canale no con le domande io le porto argomenti grazie alle vostre domande altrimenti veramente sarebbe difficile comunque continuare a fare sempre le solite cose ho un'età dove sinceramente non ho voglia di portarvi ogni singolo fumetti alla recensione o le solite cagate un box eccetera eccetera ecco con questo è tutto ragazzi mi raccomando se ripeto se siete qua per puro caso andatevi a vedere altri video mettetevi mettetemi mi piace iscrivetevi e insomma e tutti gli altri che sono già iscritti ci sentiamo alla prossima volta ok ciao ragazzi grazie a tutti